Musica Tati 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 Attenzione è altro corner, è pericolosissimo Lui Salberto in mezzo Attenzione E si riapre Forza Lazio Eh perché non ci piace Allora Dobbiamo dire una cosa La sofferenza È il cane della vita Alexandro se supera il record di presenza È veramente uno scandalo Lo fa Mai visto cosa fa E diventerà il nuovo vicepresidente della Juventus probabilmente Dai ragazzi No dopo sta roba qui non devi più giocare Mamma mia ecco Perfetto Perfetto Bene Bene Siamo riusciti in 11 minuti e 50 secondi A complicarla immediatamente subito È andato su da matti che sembrava Cristiano Ronaldo Ma perché era da solo il Tati Castellanos Era Alexandro Non mi sembrava Cioè non mi sembrava in realtà che non marcasse nessuno Era Alexandro confermato Adesso rivediamo il replay Mamma mia Ma Alexandro non è che non riesce a reggere la situazione Non salta neanche Anche Gol di Castellanos E mo so cazzi ragazzi Eccala Bel gol eh Bel gol La calcio d'angolo ragazzi Al dodicesimo E mo so cazzi Chi marcava è infatti lo voglio rivedere Da un corner battuto benissimo sul secondo palo Dove Castellano trova Ma scommetto è Alexandro Un gol Con la calcio Con la calcio Ah ma voi Ah ma voi si stava Stava guardando in tv E intanto succede Cinque euro di Moreno Castellanos Di testa Ha fatto gol Tai Tai Ma chi cazzo è Tai Castellano Tati 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 Addirittura Tati Ma la domanda è Ma chi cazzo è Tati Da dove l'ha preso Ha fatto un gran gol di testa Bel gol di testa Ma La marcatura È quello che sto dicendo Guarda chi Guarda chi Secondo me chi Alex Non può esserci Non può esserci To Alex Non può esserci To Alex To spendo Merda Occhio Colpo di testa E gol della Lazio Castellanos Che porta la Lazio in vantaggio Sul corner Io ho detto Che la Juve il gol Lo prendiva Io vabbè Dio santo Guarda Gianmarco Bannatelo Bannatelo Dopo Undici Dopo Dovici minuti Bannatelo Tutte le partite Così Che due coglioni Però dai Ma che due coglioni Però Tutte le partite Così Guarda 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 Aleksandro Ma cosa Ma come cazzo Si fa A marcar da dietro Cosa Si è messa a pecora Cosa voleva Gussargli il culo Cosa voleva fare Ecco qua Lassi in vantaggio Lassi in vantaggio Chi è che ha fatto gol Ma dov'è che è andato a prendere quel pallone Dov'è che è andato a prenderlo Chi è che ha segnato Tati Ha segnato Tati Chi è Tati Sapevo manco che c'era Ha segnato A Castellanos Castellanos Lazio 1 Juventus 0 Bene Cominciamo bene Diciamo che Andiamo bene Adesso io Ovviamente Adesso la partita si fa bella Perché Perché adesso Devi vedere Juventus Ma dove è andato a prendere il pallone Questo Sulla testa di Chi è Sulla testa di Aleksandro E beh è chiaro Sulla testa di Aleksandro Dalla bandierina Luis Che stavolta Va in mezzo Basta di scaglia E' stati E' stati E' stati Ragazzi E' stati Incredibile Abbiamo segnato Su calcio d'algo Abbiamo segnato Su calcio d'algo Finalmente Su calcio d'algo Finalmente Io Io Sono senza parole Senza parole E basta Cioè Cazzo gli anos Abbiamo fatto Segnare Il Bon Ben Guarda Aleksandro Come Avete visto Aleksandro Io Ti E' Troppo Pagno Figlio Di Pagno Perché Mori I Voli Per mano 1 a 1, con i piedi, con le mani 1 e 2, dovete sparire, porco Felipe, Felipe, grande palla per Luiz No, Luiz, il Tati, il Tati Tati, 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 sono due con la doppia Stescianos, che gol, è il Tati, tutta verticale a Lazio da Cataldi a Felipe Anderson a Luis Alberto a Castellanos che vince il duello fisico fa doppietta 2-0 e adesso è totale parità ma è anche totale delirio e mo e assai mo gli allegriani mo devono arrivare gli allegriani adesso mo devono arrivare e in quest'azione in verticale Mou come il gioco Castellanos come abbiamo detto parlavo in scuroveggio comunque Bremer Bremer mi hanno insegnato e Danilo mi hanno insegnato malissimo malissimo Bremer però Bremer non si è giocato per i primi 60 secondi forza supplementarie del secondo tempo c'eravamo raga comunque fa una cosa Castellanos che si può mi ricorda molto Lautaro una cosa Bremer no bro l'hai fatta no no l'hai fatta tu mi sa no 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 non l'ho fatta a me piace il mio odore 2-0 2-0 doppiezza ragazzi di Castellanos ragazzi vediamo se regolare l'azione se non è fuori gioco che la vizia non è fuori gioco chi è fuori gioco è gol fuori gioco non penso sia fuori gioco a me varia fuori gioco netto forse forse gol della Lazio forse fuori gioco vediamo speriamo che sia fuori gioco secondo me fuori gioco secondo me ci può essere il fuori gioco secondo me ci può essere fuori gioco pure secondo me fuori gioco ragazzi sono i classici gol che annullano blovic ogni volta quindi secondo me è fuori gioco vediamo 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 un po ma che cosa ha fatto ragazzi ma prende due gol da castigliano se ne vuole ma vai a cagare stronzo vai 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 buttalo dentro e finalo tira go guarda spero solo che io lo annullano perché li ho visto mi sembrava in fuorigioco non ci voglio mai credere fuorigioco non ci voglio mai credere forse è buono però aver portato ha invitato il centro è buono è buono quindi dovrebbe essere buono ha raddoppiato la Lazio il Dati Castecciano è buono mamma mia non ci posso credere non ci posso credere aiuto 2 passaggi 3 passaggi siamo arrivati a quello che dicevo sono arrivati in 3 passaggi 3 3 3 dalla loro metà campo in porta 3 passaggi esatto ma il problema è che Agnelli ha comprato Ronaldo quello è il problema no 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 gol ma non è possibile non è possibile non è possibile ma dai ma stiamo scherzando ma si sta scherzando ma stiamo scherzando ma 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 wanna cioè допietta di Casselianos questo non lo ha segnalato in trenta partite ha fatto due gol ha fatto e oggi si breaka la doppietta con noi cioè se io Noi siamo riusciti a far segnare due gol a questo. No, ne ho bugato tutti, UEA, gol della Juve. Gol della Juve, voglio vedere solo sul fuorigioco qualche speranza. Però ragazzi, che culo, non capisco i cambi, ma ha segnato. Milik fa due a uno, funziona subito il tridente bianconero, subito. Che signor? Che signor? UEA, 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 UEA. No, 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 Milik, Milik. Che niente scusa Milik, che niente scusa Allegri. Alfonso, diciamo tutto con Milik. E' finita, è finita. siamo in finale ragazzi siamo in finale siamo in finale siamo in finale siamo in finale